benvenuti sul mio canale oggi nuovo video vi farò vedere come applicare la polvere aurora dove vi ho fatto vedere che ho acquistato su passione unghie e già qui ho fatto una prova ecco l'effetto c'è bellissimo che ha questi riflessi anche rosa e ho applicato una base bianca infatti adesso vado ad applicare una base bianca perché l'effetto che mi piace di più come colore che dà la polverina aurora anche sui altri colori ma col bianco mi piace di più l'effetto che dà questa polverina adesso allora prima cosa andiamo a applicare insomma la polvere aurora quindi andiamo a prendere il pur white questo è il fast f01 tutto passione unghie ovviamente già allora come prima cosa io come vedete quando faccio anche video dell'arte questi pennelli qui questi qui per fare prove eccetera per applicare colore o il gel costruttore gel base però ovviamente quando devo fare le clienti o a me ovviamente uso i prodotti più buoni insomma ecco è ovvio uso il pennello quello nuovo poco presa passione unghie per applicare il colore adesso andiamo a stendere la prima passata catalizziamo per 5 secondi lampada per fermare il colore e poi una seconda passata ecco qua allora dopo aver fatto la seconda passata senza sgrassare senza niente di niente con la dispressione del colore prendiamo il pigmento aurora eccolo qua molto bella mi piace tutto veramente tanto con il pennello questo qui in silicone sempre di passione unghie andiamo a prelevare un pochino non mi serve tanta e andiamo a picchiettare nell'unghia così in questo modo proviamo un po' appicchiettiamo e poi infine andiamo a strofinare così la polverina in questo modo vedete che manca alcuni pezzi prendiamo ripicchiettare a strofinare ecco qua ragazzi questo qui è l'effetto della polvere aurora stupenda questa era la prima prova che ho fatto questa che ho fatto adesso con voi questa qui è il risultato è facilissimo ad applicare come avete visto è molto semplice e così lo fate lo stesso con gli altri colori invece trovo veramente questa polverina sono stata veramente veramente contenta di averla acquistata perché mi piace veramente il pazzire e da quando è che l'ho vista che ho visto anche la diretta su instagram di passione unghie e dico no deve essere mia infatti appena ho fatto l'acquisto ho messo subito nel carrello e l'ho acquistata insomma ecco e niente io spero che questo video vi sia stato utile e spero anche che vi sia piaciuto se è stato così mi raccomando mettete il pollice in su sotto il video se avete il piacere di commentarmi mi commentate mi fate sapere cosa ne pensate se vi piace questo effetto questa polverina qui oppure no e niente vi lascio vi mando un bacio e ci vediamo per il prossimo video ciao 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 ciao